Un applauso al sindaco di Serbia e al presidente del Consiglio regionale. Un applauso al sindaco di Serbia e al presidente del Consiglio regionale. Un applauso al sindaco di Serbia e al presidente del Consiglio regionale. La voglia, la fatica, la cultura che ha a ridare alla propria terra. Io dico sempre comunità non è chiedere qualcosa al comune o alla regione o alla provincia. E soprattutto chi riesce a dare spassionatamente, con passione, il proprio lavoro e dare un insegnamento a tutti noi, soprattutto in questo caso ai giovani, di come si possa valorizzare il nostro territorio. E' uno stimolo per noi amministratori, per promuoverlo ancora di più, per capire quanto queste terre siano state in grado di ospitare delle eccellenze. E quindi il ringraziamento credo vada da parte non solo della città di Serna, ma di tutta la regione, di tutte le città di Monisani, ma anche, credo, posso dirlo con serenità e comunità, da parte del mondo della cultura per il suo impegno. Quindi un grazie al maestro. Chiamiamolo maestro in questo caso. Grazie, Frandolo, essere chiamato maestro, ma è un maestro. Tu lo conosci da tanto tempo, vero Quentino? Ci sono due ragioni per le quali sono qua. Una è istituzionale, quindi voglio tributare a nome di l'intero consiglio regionale, a Franco Valente, gli onori che merita. E l'altra anche personale, lo conosco nel 1979, quindi diciamo qualche anno è passato, allora non aveva la barba così canuda e così lunga. Magari è diventata ancora più un ispida con gli anni, ma qualche cabello in più, anche per me. Franco Valente va ringraziato per la sua ostinazione, soprattutto, perché la cultura purtroppo alcune volte va nel dimenticatoio. E quindi Franco Valente rinnova e rigenera la sua cultura e la trasmette a tutti quanti noi. Quindi il lavoro che fa è incomiabile, io lo voglio veramente ringraziare. Perché Franco Valente non è un vincitore, Franco Valente è un vincente, perché non ha vinto una sola volta, continua a vincere. Quindi per vincere, per quindi essere un vincente, vuol dire che Franco Valente ci mette quotidianamente l'impegno, che non si raggiungono i risultati, come quelli che ha raggiunto Franco Valente, se non con l'impegno quotidiano. È vero che ha anche la materia prima, Castessa Vincenzo, che in qualche maniera può stimolarlo e quindi fare raggiungere questi risultati, ma li raggiunge grazie a un impegno che va sostenuto, come diceva Pocanzi il sindaco, non solo con la presenza delle istituzioni, ma anche con una partecipazione attiva. Io spero che il Presidente della Repubblica voglia accogliere l'invito per i festeggiamenti del Sessantesimo e quindi onorarci con la sua presenza. Se ciò dovesse accadere, la presenza del Presidente della Repubblica passerà attraverso il sito di Castessa Vincenzo. Questo è un impegno che prendo pubblicamente e che sono sicuro tutte le istituzioni vorranno sostenere. Io non vedo Franco Valente nei paraggi, apparirà nella sua magnificenza. Anche perché lui è quell'atomo incandescente di cui parlava Francesco Iovina. Allora, lo saluto nella sua magnificenza e gli auguro naturalmente un ulteriore traguardo per il suo lavoro, ma soprattutto per le future generazioni che troveranno in Franco Valente tutto ciò che è necessario per essere edotti nel migliore dei modi. Grazie a voi. Grazie Presidente. Grazie a voi. Signori, per tutti noi, non solo per me, è un grande onore far entrare Franco Valente e chiaramente far un dovuto applauso. Ci accompagneranno due grandi uomini della cultura musicale, Marcello Rivelli, Rino Lufo, Vai Bartello senza marinai La tua rotta è dolce lungo il fiume Nessuno grida sopra il ponte Nessuno ti risponde mai Al suono delle onde allora vai Vai Affida i bianchi alle correnti E legge e veda i quattro venti Come un pensiero vola mai Una parola assomantitico Vai Senza affa, senza aurora Vai Battello senza marinai Vai Ci sono scogli che supererai Navigando a caso fino al mare Con il mattino sopra il mu Senza toccare il mondo mai Con l'ansia di un incontro allora vai Vai, leggero come lo stupore Felice come vai l'amore Vincendo la paura vai Una parola sola ti dico Vai, senza alba, senza aurora Vai, va bello senza marina Vai, va bello senza La marina è Vincendo la paura vai Grazie a Marcello e a Lino Per questo contributo che per me è un onore Perché Marcello è di Rocchetta Volturno Lino è di Castelvolturno Quindi stiamo parlando di persone che hanno fatto la storia musicale nel nostro territorio Avremo modo poi nel futuro di... Dato questo volume vi confesso che il momento drammatico è quello di scrivere le dediche sui libri Perché si crea una sorta di cancellazione, di rimozione di tutte le figure di amici, amici fraterni Che se non mi dicono chi sono difficilmente riesco a scrivere la dedica Mi dovrete sicuramente perdonare per questa defiance che però è dovuta a un problema fisico Io cinque anni fa non ricordavo neanche come mi chiamavo perché ho avuto problemi cardiaci E devo ringraziare veramente l'organizzazione medica di Sernia e in particolare di Carlo Olivieri Che mi ha dato la possibilità di sopravvivere a questi eventi Per cui i racconti oggi sono un ripescaggio nella memoria di fatti che appartenevano a un passato Un passato spesso remoto e che invece si vivifica andando a leggere i documenti Ma andandoli a leggere in una maniera un poco diversa Molti sostengono che io scrivo soltanto fesserie Ma ovviamente spero che chi dice questo perlomeno provi a leggere le cose che ho scritto E soprattutto stasera cercherò di dimostrare che la Valle del Volturno Ma San Vincenzo e Volturno è stato sempre al centro di interessi internazionali Non è un fatto folcloristico, un fatto paesano O un fatto legato a una cultura locale, diremmo provinciale E quello che accade a San Vincenzo e Volturno è qualcosa di straordinario Ovviamente io non vi faccio il riassunto del libro Altrimenti non si capisce per quale motivo lo abbiate comprato Però vi accorgerete utilizzando anche le bellissime fotografie di Pino Manocchio Che ha trasformato la cripta d'Epifanio in una sorta di camera oscura Dove la mano di Dio entra e illumina delle pitture che io ritengo le più belle del bacino mediterraneo Ecco, questo libro già nel titolo vuole dire qualcosa Perché San Vincenzo ha le fondi del Volturno E quindi si capisce che stiamo parlando delle sorgenti del Volturno Ma soprattutto locum ubivocatur samnia Quel luogo che una volta si chiamava Samnia Su questa questione sembrerebbe parlare di una cosa piuttosto banale E non so quando comincerete ad alzare la mano e dire Chiudi l'argomento, io lo farò rapidamente Però non senza aver detto che nel 503 a San Vincenzo e Volturno Si insedia un vescovo, Marcus Sam Ninus Che nel 503 partecipa a un concilio di Simmago Questa indicazione è stata sempre sottovalutata C'è stato soltanto uno studioso di Benevento che l'ha approfondito Però l'ha approfondito nel momento in cui ancora non si scavava a San Vincenzo Per cui ha una grande intuizione ma non localizza il luogo di Marco Samino Esattamente nell'area archeologica La questione di Samnia è importante perché il cronico a Nuvolturnenze Voi troverete una rassegna di immagini straordinarie del cronico a Nuvolturnenze Credo che per la prima volta vengano pubblicate tutte indistintamente Queste miniature che oggi fortunatamente sono conservate all'archivio segreto vaticano Ma che sono patrimonio della nostra realtà E allora per cercare di far capire la sintesi di quello che sto per dire Bisogna tenere presente che queste miniature che voi vedete Sono dell'undicesimo secolo Cioè sono state trascritte, ritrascritte, ricopiate Nello scrittorio di San Vincenzo a Nuvolturno A partire da cose scritte nell'ottavo secolo E ogni volta che si facevano queste trascrizioni potete immaginare gli errori Non esisteva la carta stampata Quindi tutto ciò che veniva trascritto derivava esclusivamente da quel foglio di carta Di carta pecora che veniva trascritto all'interno del monastero Ecco pensate per fare una battuta Quando un abbate decideva di trascrivere una Bibbia o un cronicon Le pecore erano molto preoccupate Perché la quantità di pecore che bisognava ammazzare Per trovare, per ricavare la carta pecora Che poi sarebbe stata utilizzata per scrivere Era impressionante E una delle attività principali Nell'abbazia di San Vincenzo Era quella di ammazzare capretti e pecore Anche per ricavare carta su cui trascrivere la storia Ma qual è la questione fondamentale? E' che nel cronicon oltre 30 volte Il luogo viene chiamato Locum Ubi Vocatur Samnia Cioè quel luogo che una volta si chiamava Samnia Io penso che qualche storico si sarebbe dovuto preoccupare di capire Ma perché questi monaci hanno ripetuto per tre secoli, quattro secoli Che quello era il luogo dove c'era l'antica Samnia E poi dirò qualche cosa per dimostrare che l'antica Samnia Era proprio San Vincenzo Volturno Alle sorgenti del Volturno Perché la storia comincia con questa migrazione di sanniti Che si muovono lungo la dorsale appenninica Guidati dal toro sacro Che si ferma nel luogo dove fu consacrato la collina E quei sanniti furono consacrati a Marte Ma queste le troverete scritte nel libro se mi va di leggere La storia di San Vincenzo però comincia a complicarsi nel 703 E' una di quelle date che bisogna ricordare Per San Vincenzo Volturno siamo in pieno regime Longobarto San Vincenzo, l'area del Molise dipende da Benevento E da Benevento partono tre principi Paldone, Tatone e Tasone Sembra l'inizio di una favola per i bambini Ma in realtà è la storia vera di questi tre principi Che lasciano Benevento per andare in Francia Allora andava di moda la Francia E quindi decidono di attraversare tutta quanta l'Italia Si fermano a Farfa La parte di Farfa li convince a ritornare a San Vincenzo a Volturno E i duchi di Benevento danno in concessione Sono loro che decidono Danno in concessione a questi tre principi Tutto quel territorio che oggi corrisponde esattamente all'alta valle del Volturno Poiché i territori si fanno non per sottrazione ma per addizione Ecco non possiamo immaginare che questa parte del territorio sia nata Sottraendo territorio ad altre diocesi Quindi è plausibile D'altra parte la storia non si fa con le certezze Noi abbiamo avuto il più grande storico del Sannio Che Vincenzo Ciarlanti nel 1644 Scrive un'opera straordinaria Che da allora a oggi viene copiata sistematicamente Senza che nessuno aggiunga nulla alle cose da lui scoperte Peraltro a Monte Cassino Perché la cronaca di Ciarlanti è stata scritta nell'abbazia di Monte Cassino Ecco questa storia oggi va rivista Ma non perché è cambiata la storia Ma perché viene cambiata la interpretazione della storia Io sono un fedele seguace di Giordano Bruno Giordano Bruno scrisse una frase che ha insospettito molte persone Cioè parlava degli infiniti universi Ma Giordano Bruno sapeva benissimo che l'universo era uno solo Sono infiniti i punti di osservazione dell'universo E' chiaro che ognuno di voi in questo momento Mentre io sto parlando Sta a pensare o a una cambiale scaduta O che stasera deve cucinare O che c'è un familiare con la febbre E quindi ognuno di noi riceve dalle informazioni che vengono date da una chiacchierata Delle precisazioni che sono fortemente condizionate dallo stato fisico di chi riceve queste informazioni Io conto su questo modo di vedere le cose Fatto sta che questi tre principi arrivano a San Vincenzo a Volturno E cominciano a fondare questo monastero di cui non si sa nulla Noi dobbiamo tornare al 1982 Quando a Venafro fu fatto il primo convegno internazionale Sull'ecidio Saraceno Sull'ecidio di San Vincenzo a Volturno E in quell'occasione cominciarono a venire fuori i primi elementi che Richard Hodges aveva scoperto a San Vincenzo a Volturno Richard Hodges di mestiere fa l'archeologo Non si occupa di interpretazione della storia Però è stata fondamentale la sua scoperta Perché ha permesso di capire che San Vincenzo a Volturno sono due Anzi sono tre C'è un San Vincenzo a Volturno E lo vedrete nelle piantine riportate nel libro C'è un San Vincenzo l'originale Il primo quello di Paldone, Tatone e Tasone Poi c'è un San Vincenzo fatto dall'abbate Giosue Cominciamo a vedere questi personaggi che non dicono niente Ma Giosue aveva una sorella che aveva sposato Ludovico il Pio Ludovico il Pio era figlio di Carlo Magno Carlo Magno era figlio di Pipino il Breve Questi tre personaggi bisogna sempre tenere presente Per capire che cosa succede a San Vincenzo a Volturno Ovviamente un imperatore che ha un cognato abbate Credo che faccia di tutto per donare a questa abbazia Una quantità di benefici che poi costituiranno la base Dell'organizzazione monastica Del orare, pregare e lavorare Che è la città monastica di San Vincenzo Questa basilica di cui a un certo punto si perdono le tracce Perché nell'881 arrivano i Saraceni Nungendorum, Monacorum, Decollatorum Che tagliano la testa a 900 monaci 500 una versione, 900 un'altra Ma comunque non erano pochi Che furono decollati su iniziativa Non dei Saraceni Ma su iniziativa di un vescovo di Napoli Attanasio II Il quale aveva, bizantino Aveva individuato un percorso politico Secondo cui per diventare Papa Egli voleva diventare Papa Avrebbe dovuto prima di tutto distruggere i Benedettini E quindi comincia una politica E' ferata nei confronti di questi monaci Che vengono sistematicamente ammazzati A Monte Cassino Nel territorio di Sernia Nel territorio di Venafro Pensate agli scacchi di Venafro Gli scacchi di Venafro sono stati trovati In una tomba di un saraceno Che era morto Mentre aspettava di conquistare San Vincenzo a Purturo Ecco, queste cose sono importanti Perché fanno intendere Che a San Vincenzo si cominciava a ragionare In termini diversi Io ho il sospetto che in un certo momento Della storia di San Vincenzo a Purturo Compaia un altro personaggio Non mi impaurite per i nomi Perché potreste andare in crisi Però sono nomi che fanno effetto Cosma Indico Pleuste Il quale era un viaggiatore Indico Pleuste Viaggiatore delle Indie Il quale sul Sinai Scrive un trattato Su come è fatto l'universo Tenete presente le scatolette sperlari Una delle immagini è passata Davanti a voi Le scatolette sperlari Immaginate che l'universo Fosse come una scatoletta Diciamo di metallo Di spirito poi in effetti All'interno della quale Esiste Gerusalemme Le montagne di Gerusalemme Ma soprattutto c'è una Una specie di tenda Quando sentite la parola La tenda cosmica E' una tenda che è assimilabile Alla tenda di Mosè Proprio questa è la definizione Che viene data da Cosma Indico Pleuste Per cui egli ritiene Che questo sia l'elemento fondamentale Per capire come si debba interpretare l'universo Noi stiamo parlando di cose semplici Cose che appartengono alla storia teologica Ma che comunque per noi cristiani sono fondamentali I sacerdoti di questo vivono Raccontando questi elementi Ecco Cosma Indico Pleuste Molto probabilmente scrive questa storia Questa è una delle tante edizioni Che finisce a Roma Finisce a Roma probabilmente Alla corte di Stefano II Altri nomi che sono Potete pure dimenticare immediatamente Però Stefano II Era un'indrallazione Era colui che si mette d'accordo Con Pipino e il Breve Per scrivere Un falso Una falsa donazione di Costantino Che è imperniata su un ragionamento Che noi troviamo scritto nel cronico Novo Turrense Di cui dirò qualche parola Sempre se riuscite a resistere Stiamo ancora alle fasi preliminari Ecco il Cosma Indico Pleuste Immagina che l'universo Sia identico alla Clipida di Epifano Non solo Ma descrive anche Mosè Che riceve il libro delle verità Da Dio Perché Mosè è l'unico personaggio umano Che ha parlato con Dio Non esiste altro personaggio Nella storia della cristianità Che abbia avuto la possibilità Di parlare con Dio Per cui tutto ciò Che Dio ha detto a Mosè Ovviamente è un racconto di prima mano Che ha un'importanza straordinaria Il fatto sta che Poco dopo la costruzione Della Basilica di Giosue Diventa abbate un personaggio Che creerà molti problemi Che è l'abbate Epifanio Il quale abbate Epifanio Interpreta questa carta di Cosma Indico Pleuste E ordina di eseguire All'interno della cripta di Epifanio Delle pitture che sono le più straordinarie Del bacino mediterraneo Ma soprattutto Fa diventare questa cripta La sua tomba Cioè lui si fa seppellire Noi abbiamo ritrovato La tomba di Epifanio Il quale si fa seppellire seduto Quindi immaginate come sto io Che guardo verso l'alto E dal luogo in cui era sepolto Poi le ossa sono state smembrate nel tempo Ecco nel luogo dove è seduto Lui riusciva a vedere Una cosa straordinaria Quattro arcangeli Ai quattro angeli del mondo Vedrete le fotografie Di Lino Manocchio Che vi usciranno gli occhi da fuori Come sono belle Ecco lui vede i quattro angeli Ai quattro angoli del mondo Come dice San Giovanni nell'Apocalisse E vede un quinto angelo Venire da oriente Con il sigillo del Dio vivente Quindi lui sta di fronte C'ha la cripta intera Che riesce a vedere da quel punto Traguardando a destra e a sinistra Ma soprattutto di fronte A questa scenografia apocalittica Degli angeli Gli angeli non li ha mai visti nessuno Gli angeli noi li conosciamo Per le descrizioni fatte dai cosiddetti profeti Nessuno ha visto un angelo E noi ci dobbiamo fidare Delle descrizioni dei profeti Se vogliamo dare significato A queste figure Ma noi andiamo un poco oltre Perché al centro del bacino Della cripta di Epifanio Epifanio guarda verso l'alto Quindi si appoggia con la testa dietro E vede la Madonna assunta in cielo E' la prima volta Nella storia della cristianità Che una Madonna Siamo nell'840 Grossomodo Che una Madonna viene rappresentato All'interno di una sfera E' un fatto rivoluzionario E' come mettere Una donna che non c'entra niente Con i racconti evangelici All'interno di una chiesa Ecco Noi apprezziamo L'importanza di questa Madonna Perché nel 2012 Quindi dieci anni fa Papa Ratzinger Che è un papa molto antipatico Per molti versi Però sappiamo tutti Che è uno dei più grandi teologi Della cristianità del secolo scorso E di questo secolo Ecco Il papa Ratzinger Fa una omelia Nel Vaticano A duemila tedeschi Lo sapete I tedeschi Quando stanno a sentire Registrano tutto quello Che gli viene detto E gli dice Voi non sapete Che il primo teologo Della cristianità Che ha affermato Che la Madonna E' stata assunta in cielo Con tutto il corpo Con tutti i vestiti Con gli orecchini Con le scarpe E' Ambrogio Autoperto Alle sorgenti Del Volturno In un'altra realtà La regione polisi Avrebbe dovuto Organizzare decine Di pullman Per far venire L'opera romana Pellegrinacci Perché è veramente Una cosa unica Al mondo La risposta invece È che viene interdetto L'uso della grip Da tutti quanti La sovrintendenza Con una operazione Che io chiamo Ritengo discutibile Ha stabilito Che in una giornata Non possono entrare Più di dodici persone Nella cripta Non possono entrare Più di due persone Alla volta Per cui se dall'America Arriva un gruppo Di tredici persone Il tredicesimo Se ne torna in America Senza aver visto niente Sono cose allucinanti Ma soprattutto C'è questa ingerenza Dello Stato italiano Nei confronti Di chi E' il vero proprietario Di quest'area Di chi è l'area Di San Vincenzo A Fortun Questo Cerco di chiarirle Nelle premesse Nella parte finale Ecco L'area di San Vincenzo A Fortun È di proprietà Della regione Molise La regione Molise Ha speso Oltre un miliardo e mezzo Per acquistare Tutti i terreni Quindi sono di proprietà Della regione Non si discute Ma soprattutto La regione Stabilì Che questi terreni Dovano essere Destinati Ad attività Culturali Gino di Bartolomeo Che è l'autore Di questa Grande impresa Stiamo parlando Degli inizi Del 90 Lui disse Io voglio vedere Parlando con l'abbate Di Monte Cassini Io qua voglio vedere Decine di giovani Molisani Scavare E ricavare Un reddito Dal patrimonio Che io adesso Farò mettere A disposizione Della regione Molise Non è accaduto niente Di tutto questo Perché noi Ci troviamo Di fronte A un A un Io li chiamo I boiardi Dello Stato Sono quelli Dell'ultima fase Del governo Borbonico Quelli che Dicono Qua comando io E tu devi fare Quello che dico io Ovviamente Ciò determina Una Una grossa contestazione Che Francesco Roberti Presidente della Giunta regionale Oggi Spera di poter Dirimere Attraverso la nomina Di un conservatore Nella mia persona E ovviamente Spera che io possa In qualche modo Aiutare A riportare Alla Regione Molise La proprietà di quest'area Che cosa succede? Che La cripta di Epifanio Nell'881 Quando arrivano i Saraceni I Saraceni Distruggono Non è che Avevano molti interessi Per le bellezze Paesaggistiche E per i beni Archeologici Nel 10 ottobre 1881 Crolla La chiesa Di Santa Maria In insula E La cripta Rimane sigillata Rimane sottoterra Per 1200 anni Di questa cripta Non se ne sa niente C'è la storia Del mondo Continua a parlare Di arte Di architettura Ma della cripta Di Epifanio Nessuno sa niente Nell'840 Grosso modo Accade che La cripta Di Epifanio Viene acquistata A seguito Di una vendita Immobiliare Dello Stato Italiano Viene acquistata Dal Duca Catemario Il quale Duca Catemario Di Quadri Prima di morire Per guadagnare Forse una fetta Di paradiso Decide di donare Tutto il cespite Di San Vincenzo Colturno All'abbate Di Monte Cassino Alla congregazione Dei monaci Di Monte Cassino Per cui Monte Cassino L'abbate Di Monte Cassino E' custode Di Monte Cassino Perché è di proprietà Dello Stato Italiano Ma è proprietario Legittimo Della cripta Di Epifanio E di tutto ciò Che Che vi è attorno E questo è lo stato Dell'arte Però Quando Sono state scoperte Queste pitture Sono cominciate Le interpretazioni Una quantità Di filosofi Che hanno cominciato A scrivere Una quantità enorme Di cose interessanti Però Nessuno ha colto Il significato profondo Cioè che Questa cripta Non era finalizzata A raccontare La bellezza Dell'universo Ma era finalizzata A mettere Epifanio Nelle condizioni Di essere il primo Al momento Della fine del mondo Nel momento In cui Sta per scendere Alla Gerusalemme celeste E la Madonna Assunta in cielo Queste pitture Sono bellissime E fortunatamente Sono conservate Pure abbastanza bene Molto probabilmente Si deve Alla parte Ilario Ilario da Matera Se queste pitture Ancora venivano conosciute Nel decimo secolo Nell'epoca Normanna Tant'è vero Che a Matera C'è Ho pubblicato Le immagini C'è una cripta Analoga A quella di San Vincenzo A Volturno Molto più banale Che ha semplicemente Delle cose Di San Vincenzo E i papaveri Di Matera I papaveri Sono legati All'uso Di Oppiacei Perché Attraverso I papaveri Si ottengono Delle sensazioni Che ti fanno Avere delle visioni Paradisiache E quindi Il significato Che si nasconde Dietro queste pitture Poi le vedrete Bellissime E' proprio legato A una interpretazione Apocalittica Del culto Di Demetra Che aveva Proprio come Il papauro Nella Nella sua Iconografia Quelle storie Si arricchiscono Di episodi Leggendari Ambroggio E' colui Che scrive La vera storia Delle origini Di San Vincenzo Raccontando Quello che fa Costantino il Grande Il primo grande Imperatore Della cristianità Che nel 313 Dopo aver sconfitto A Ponte Milvio L'imperatore Allora insediato Decide di andare In Oriente Di andare A Costantinopoli In quel periodo In cui Ambroggio Racconta Il fatto Per andare A Costantinopoli Non si poteva Prendere l'appia Perché era Interrata E quindi Inventa Ambroggio Un percorso Diverso Decide di Attraversare La valle Del Volturno Insieme al suo Esercito E quando Arriva Nel maggio Del Inventando Ovviamente Del 313 A San Vincenzo A Volturno Preso dal Tipore Della giornata Si addormenta Davanti all'esercito Ovviamente Se voi Sognate Non succede niente Ma se sogna Un imperatore Credo che Vi sia Qualche Conseguenza Allora Lui ne sogna E lo racconterà Poi ai presenti Sogna Tre santi San Lorenzo Santo Stefano E San Vincenzo Di Saragozza Santo Stefano Era il santo Di Gerusalemme Santo Stefano Era il santo Di Il santo Di Gerusalemme San Lorenzo E il santo Di Roma San Vincenzo Di Saragozza E il santo San Lorenzo Che essendo di Roma Si faceva capire meglio Quindi da anche Una spiegazione logica A perché Il racconto Viene fatto Da San Lorenzo E San Lorenzo Dice guarda Io sono contento Perché mi hai dedicato Una basilica a Roma San Lorenzo Al verano Stefano è contento Perché l'hai dedicato Una bella basilica A capo Alla seconda Roma E Vincenzo Sta un po' arrabbiato Perché Non gli è stato Dedicato niente Impressionale Da questo sogno La mattina Si sveglia E ordina Di costruire A San Vincenzo Il Volturno Una basilica Intitolata A San Vincenzo Di Saragozza Tutto questo È illustrato Con dovizio di particolare Nel cronico Il Volturnet Ma qual è il problema Che esce fuori E che di questa questione Nessuno si è mai occupato Perché Molti si sono Preoccupati Di capire Chi abbia Materialmente Falsificato Il documento Di Costantino Il Grande E quasi tutti Si sono limitati A dire Che è stato fatto Nell'ambito Della corte papale Dell'ottavo secolo Si sono limitati A dire Che probabilmente È stato Un abbate francese Che ha scritto Questa storia Ma nessuno Si è preoccupato Di vedere Che in effetti Chi ha raccontato Questo fatto È proprio Ambroggia Ottoperto Ambroggia Ottoperto In questa occasione Racconta anche La venuta Di Carlo Magno A San Vincenzo A Volturno Tutti hanno ritenuto Che sia una falsificazione Perché Si ritiene Che Carlo Magno Non abbia potuto Venire Da Aquisgrana A San Vincenzo A Volturno E tornare Ad Aquisgrana Perché secondo La logica Degli studiosi Che prendono Per buono Qualsiasi Considerazione Venga loro fatta Aquisgrana Starebbe Ai confini Dei Paesi Bassi Dalle parti Dell'Olanda A Aachen Invece c'è stato Uno storico Molisano D'un nannino Carnevale Che nel 2001 Ha fatto Questa clamorosa Scoperta Ha scoperto Che nel Val di Chienti Ci sono C'è una serie Di edifici Di periodo Carolincio Che sono La descrizione Precisa O meglio Sono descrivibili Precisamente Con i racconti Che riguardano Carlo Magno Avendo trasferito Aquisgrana Nel Nel Val di Chienti Ecco Questi spostamenti Divendono logici Troverete Nel libro Una nota In cui Queste Vengono Dimostrate Queste Impossibilità Di spostamento Di Carlo Magno Se non Spostando Il luogo Di Aquisgrana Ed è una cosa Che ha interessato Soprattutto Il Vaticano Che nel 2001 Pubblicò Per la prima volta In occasione Di una mostra Uno studio Di un tedesco Il quale Diceva Che tutto ciò Che riguarda Le descrizioni Di Carlo Magno Sono da prendere Con il cucchiaino Perché in effetti Aquisgrana Quella che oggi Viene chiamata Aquisgrana Diventa tale Solo nel periodo In cui le reliquie Di Carlo Magno Vengono prese Da Federico Barbarossa Diventa santo Carlo Magno E decide Di spostarle Per motivi politici Proprio ad Aachen Per cui Aquisgrana È tale Dal dodicesimo secolo Non dall'epoca In cui Stiamo raccontando I fatti di San Vincenzo A fortuna Ma a parte questo C'è C'è Un'incongruenza Spettacolare Per il fatto Che Ambroggio Ottoperto Racconta Che Carlo Magno O meglio Costantino il Grande Era debitore Nei confronti Di San Silvestro Domani Alla festa Di San Silvestro Se sta scoperta Io l'ho fatta Casualmente Nel giorno Di tre anni fa Durante il Covid Che dovevamo Obbligatoriamente Rimanere a casa E quindi Ebbi modo Di rileggermi Queste storie E mi sono accorto Che nessuno mai Ha preso in considerazione Gli scritti Di Ambroggio Ottoperto Ovviamente Io ho comunicato Immediatamente A Montecassino All'archivista Di Montecassino Questa mia Intuizione Che gli ha ritenuto Immediatamente Plausibile E adesso Su questo Ovviamente Avremo modo Di discutere Parecchio Che succede Che quando Viene scavata La cripta Perché un contadino Cade In una buca Intorno 120 anni fa Cade in una buca Queste pitture Vengono considerate Straordinarie Però nessuno Mette a fuoco L'importanza Che si hanno Leggendo il libro Avete la possibilità Di capire Tutte quante Le teorie Che reggono La interpretazione Di queste pitture Però nel frattempo Arriva un'altra Setta di personaggi Che sono I Borrello I Borrello Nel cronico Nuvulturnense Vengono Definiti Sacrilegi Raptores Rapitori Sacrilegi Peggiori Dei Saraceni Ecco Voi immaginate A Montecassino Quale considerazione Avessero Dei nostri Amici I Borrello Di Pietrabbondante Ecco In questo momento Che i Borrello Si appropriano Approfittano Del fatto Che i monaci Hanno abbandonato San Vincenzo A Volturno Tutto era crollato Approfittano Di questo fatto E realizzano Una prima Struttura militare Importantissima Quella che voi vedete Credo che tutti Siate stati A San Vincenzo A Volturno C'è un campanile enorme E quattro torri Ai quattro angoli Una di queste torri E' il palazzo Cosiddetto Abbaziale All'interno Di questo palazzo Abbaziale Esistono Degli elementi Di natura Normanna Che fanno capire Che I Borrello Avevano costruito Un Si erano insediati A San Vincenzo A Volturno Deve arrivare Un papa Nicola II Il quale Chiamato dai monaci Che erano rientrati A San Vincenzo A Volturno Per ricostruire Il monastero Nicola II Scomunica Il Borrello E ordina La restituzione Ai monaci Di San Vincenzo A questo punto Quella che voi vedete E' una ricostruzione Degli anni Postbellici Di San Vincenzo A Volturno Fatta da Don Angelo Pantoni Però Nel secolo Nel secolo Nell'undicesimo secolo Nasce una chiesa Probabilmente Molto molto più piccola Forse neanche a Tre Navate Che sarà demolita Completamente Dagli angioini Allora Tenete presente Che nel nostro territorio A volte arrivano Gli angioini A volte arrivano Gli aragonesi Siamo nel periodo In cui Si dice Con la Spagna Con la Francia L'importante Che si magna Mentre si facevano Vertenze Nel nord dell'Europa Qui se le davano Di santa ragione Per conquistare Dei castelli E dei luoghi Fortificati Fatto sta Che da questo luogo Vengono cacciati I porrello E ritornano In proprietà All'abbate Di Monte Cassino Ed è questo Il momento In cui Nel cronico Molto turnente Questo luogo Non si chiama più Locum Ubi vocatur Samnia Ma comincia A chiamarsi Castellum Samnie C'è il castello Di Sannia C'è Sannia Il luogo antico Il castello Di Sannia E il castello Dei borrello Che viene realizzato Tutto questo Lo vedrete Illustrato Con fotografie Disegni E particolari Vari Ecco Questa è la novità Di tutto Fino a che si arriva Al periodo Angioino Di San Pietro Celestino Gli angioini Distruggono Praticamente San Vincenzo E San Vincenzo Diventa Una Abbazia Comendataria Nel senso Che a San Vincenzo Non c'è più Un monaco C'è Una sorta Di principe Delegato Un barone Che poi È un cardinale Che sta a Napoli Il quale diventa Proprietario Dell'abbazia Di San Vincenzo A Portuno Proprietario Nel senso Che Prende tutte le rendite Ovviamente Al barone Cristiano Interessavano Le rendite E non Gli aspetti Né religiosi E tanto meno Culturali La storia Va avanti Fino a che si arriva Al 500 Fino 400 500 Che Il territorio Di San Vincenzo Viene usurpato Dai Pandone E che compare Nella storia Del Volturno Quest'altra genia Di personaggi Che venivano Chiamati Marefais Che significava Significava Depretatore Quindi Avevano Una considerazione Molto Particolare Questi personaggi Nel loro periodo Erano considerati Degli usurpatori Anche Questa Questa Abbazia Viene Riconsiderata Dal Papa Il Papa Stabilisce Di cacciare fuori I Pandone E i Pandone Vengono portati via E intanto Si decide Di ricostruire La nuova chiesa La nuova chiesa Sarà costruita Alla fine Prima Dell'ultima guerra Sull'idea Di Don Angelo Pantoni Che Aveva preso Fischi Per fiaschi Aveva ritenuto Non conosceva Gli scavi archeologici Quindi era convinto Che le descrizioni Del cronicon Fossero Da prendere Per buone Ed egli Ricostruisce Questa chiesa Sulla base Di una Intuizione Di carattere Culturale Cioè Una chiesa Trennavate Con delle colonne Con dei portici Che sono Questa chiesa Poi modificata Nel tempo Successivamente Integrata Con altre Con altre Con altre Con altre Con altre Con altre La parte più bella Purtroppo Non è visitabile E' costituita Dai pavimenti Cosiddetti Cosmateschi E' uno degli esempi Più belli Che abbiamo Nell'Italia Meridionale Perché questi pavimenti Che oggi sono In parte Nella Sacrestia In parte Sull'abside Ecco Sono di una Bellezza straordinaria Sono tutti fatti Con marmi Provenienti Da edifici Venafrani E da edifici Di Capua Questi frammenti Di marmo Vengono riutilizzati Per fare queste Composizioni Marmore Che hanno Delle Diciamo Affinità Con le visioni Apocalittiche Anche in questo caso Cioè E' l'universo Stellato Che si riflette Sulla terra E quindi E' una proiezione Sulla terra Dell'universo Stellato Oggi Il monastero E' Nelle Mani Di un Gruppo Di monache Eroiche Che sono Venute E Alle quali Veramente Siamo Particolarmente Legati Perché Hanno Lasciato La terra Di origine Per sistemarsi In un luogo Che ha Grosse difficoltà Di gestione Io spero Che questo libro Contribuisca Perlomeno Ad alimentare Un dibattito Può darsi Pure che Non tutte le cose Che ho scritto Ma avendole scritte Le sosterrò Fino alla fine Siano da discutere Però una cosa è certa Che la consistenza Dell'arte Dell'architettura Del materiale Archeologico Dei fatti Accaduti A San Vincenzo E' talmente vasta Per cui Non possiamo dire Che questo monastero Appartiene A Monte Cassino Appartiene Alla sovrintendenza A partire A partire Al mondo E di questo mondo Fa parte anche La Valle del Volturno Vi ringrazio Ma che bufera Stasera Nel cielo Nel mare Sta scattando Qualcosa in me E che pazzia Che sale Euforia Negli occhi E nel cuore Che pazza Su e giù Mi piacerebbe Dormire O soltanto Scoprire Che tutto Era un sogno E non realtà Ma se mi sveglio Davvero Io sono un prigioniero Di qualcosa Che neanche so Sono momenti Della vita Che vanno E vengono Per tutti noi Se un giorno Non ti gira bene Aspetta Un attimo E vedrai Sono costanti Nei pensieri Nei gesti Non mi banalità Ma è anche Però tutto Il contrario Ma all'improvviso La felicità E quante strade Bisogna seguire Per non impazzire Di monotonia E quante ortelli Nei nostri Cratelli Per non ammazzare La fantasia Mi sento spesso Diverso Da questo Da quello Che incontro Che strada Ogni giorno Ma puntualmente Mi trovano male Più di ogni animale Che mi gira In tutti Sono momenti Della vita Che vanno E vengono Per tutti noi Se un giorno Se un giorno Non ti gira Bene Aspetta Un attimo E vedrai Sono costanti Nei pensieri Nei gesti Non mi banalità Ma è anche E per tutto il contrario Ho introdiso La felicità E quante volte Siamo incatenati Come tanti soldati Ad un piccolo ramo Poi dopo Quando cadiamo Per terra Facciamo la guerra A chi non dove va E andiamo avanti Cosmo e dopo Gia Alimentando Manie Nella nostra mente Ci lamentiamo Che il mondo Lo amiamo Ma lui Di noi Non gliene Frega niente Sono momenti Della vita Che vanno E vengono Per tutti noi Se un giorno Non ti gira Bene Aspetta Un attimo E vedrai Sono costanti Nei pensieri Nei gesti Non mi banalità Ma è anche E per tutto il contrario Ho anni Improvviso La felicità Ma è anche E per tutto il contrario Ho anni Improvviso La felicità Ma è anche E per tutto il contrario Ho anni Improvviso La felicità Vediamo Ovviamente Con gli auguri Per il nuovo anno Franco Valente Grazie